Con temperature al di sopra della media di questi ultimi giorni, ma non troppo, si è svolto il primo allenamento dopo l'impegno di Coppa Italia che ha visto l'Inter vincere per 2-0 grazie ai gol di Maikone e grazie al primo gol in nerazzurro di Andrea Poli, quindi i nerazzurri che sono aggiudicati la conquista dei quarti di finale, ma quello di oggi è stato anche il primo allenamento in vista dell'impegno di domenica alle 20.45 contro la Lazio, gara che sarà l'ultima del girone di andata. L'allenamento si è svolto diviso in due gruppi, nel primo i giocatori che sono stati maggiormente impiegati nella gara di ieri contro il Genoa hanno svolto sedute rigenerative a livello individuale, mentre nel secondo si sono allenati gli altri nerazzurri disponibili, compreso Christian Chivu che hanno lavorato sul campo per circa 65 minuti tra riscaldamento, esercitazioni sulla tattica e atletiche e partitella a tema. Seduta differenziata per Filippo Coutinho che è tornato sul campo e programma di recupero personalizzato per Dejan Stankovic. Terapie e fisioterapie invece di potenziamento settoriale per Diego Forlan. Oggi è anche il compleanno di Lorenzo Crisetic che ha festeggiato anche qui in Pinettina. Domani ci sarà già la conferenza di Mr. Ranieri nel giorno di vigilia proprio di Inter Lazio e l'allenamento sarà ancora mattutino per la squadra di Mr. Ranieri. Per tutte le altre informazioni riguardo al mondo nero-azzurro rimanete sempre collegati su InterChanel canale 232 della piattaforma Sky.